Musica Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico Allora mi devo fare una spada ragazzi però questa volta la spada me la voglio fare un po' più carina Me la faccio con questi Allora corriamoli Facciamo così E dai E dai C'ho il mouse che mi scivola oggi Et voilà Et voilà Andiamo a controllare le pergamenole Mi fa piacere ragazzi vi è piaciuta la canzone dell'episodio scorso Oye Arcane Focus Heart Scusatemi F7 Taomike Generator Haunter Enchantment Axe of the Stream Tricky Vabbè iniziamo ad affare tutti per il momento Togliamo questi Si va bene Mio figlio che gridola Ok Allora iniziamo a fare con la pergamena Raccogliamo un po' di energia Che ci servirà E vi faccio vedere ciò che ho fatto Ho fatto ragazzi comunque Ho finito la casetta che stavo costruendo l'altra volta La casetta con la costruzione lì nel desertico Vi faccio vedere E vi faccio vedere anche che funziona tutto Allora Usciamo un attimo dentro fuori Fuori dentro Andiamo a fare la nanna che è meglio Buongiorno Allora Andiamo un attimo fuori Sento un boobs for the win Le guardie mi saranno morte tutte ragazzi Dove cavolo Eh chi te lo chi Brutto Shrek Allora Le guardie saranno morte Bah Bah Allora Andiamo qui Uno vedete l'ho già rotto Per cui rompiamo anche questo che non funzionava Rompiamo anche questo E poi questi ce li portiamo Portiamo Ce li porteremo dai Iniziamo a portare questi qua Oh a fuoco A fuoco A fuoco A fuoco Porca trota Porca trota Che cavolo è successo qua Vabbè Dovrò mettere il cancelletto Quello Ok Anzi Lo facciamo subito così Allora Prendiamo questi Ci Facciamo così E così E voilà Perché sento mangiare Una capra Una capra E volevi saltare dentro Il nonno ha cacato Il nonno ha cacato Soldi Soldi Quanti soldi Mamma mia ragazzi Quanta roba cos'è Atom packet Uh Atom packet A che serve Un diamante E la peppine di maiorcola Vabbè ragazzi Vi prometto che dopo Sistemerò tutto Anche la Alchemic bag Intanto Devo andare un attimo via Allora Entriamo in casa E andiamo di qua Una bistecola Una bistecola Ok Vedete 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 ciò che ho fatto Gli ho fatto Tutto questo L'ho finisciuto E vi faccio vedere Che qua funziona Guardate Tanchete Non funziona Perché No flower Perché manca Lucactus Sono pirla però Ammettetelo Che sono pirla Voilà Vediamo un po' Se adesso me lo da Intanto Li piazzichiamo Gli altri Ok Gli mettiamo Il 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 Marblet No Il Writi 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 Manca il cactus Ora glielo mettiamo E voilà Funziona ragazzi Funziona quello Non abbiamo altro cactus Va bene Qua li piazzichiamo gli altri Invece Li mettiamo Questo qua Che era quello normale Con dei fiori Non abbiamo fiori Porca trota Non abbiamo fiori Porca trota Allora Prendiamo Dei cactus E dei fiori Dei cactus E dei fiori Un cactus Cavolo sto combinando Vabbè E dei fiori Wey Ne basta uno Curra curra Oh è entrata la capra È entrata Sta capra Ma guarda che cavolo Mi sta fottendo Tutta l'erba No Non ci credo Non ci credo Si sta mangiando L'erba Schifosa Uccellino Vai via Eh crepi o no Ma porca Di quella trota Ma dai Ora mi tocca Di fare tutto Allora Prendiamo questo qui E voilà Ci ho messo Due secondi Wey Perfetto Perfetto Tutto è bene Ciò che finisce male È bene Dove è l'uscita? Qua Voilà Ritorniamo la Ok Allora Mettiamo il cactus qui E voilà Non va in questo bioma Lo vediamo dopo Ci mettiamo il fiorellino qui Ok Perché non va in questo bioma Ma che cavolo c'ha sta cosa Ma porca di quella cotoletta Ragazzi Dicetemelo Dicetemelo nei commenti Shared Vabbè Dopo traduco Cosa vuol dire quella cosa lì Guardate Questo intanto sta funzionando Il Parched Comp Una cosa nuova Qui sta funzionando Vabbè Questo funzionava già da solo Qua c'è una Oh Un uccellino azzurro Ce lo teniamo Ok Ok Adesso Adesso Mettiamo via questo qui Dove 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 Qua Poi abbiamo questi qua I Super Baby Flood Che non so che cosa sono Sono quelli che Quando ho ucciso la bambina Via questi L'ape poi la mettiamo via Via il diamante Perfetto Via la pistola Che tanto non abbiamo un casino Dobbiamo fare anche delle torce Intanto 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 Dobbiamo fare un po' di robica Dobbiamo fare Allora Vi faccio vedere ragazzi È un casino Dobbiamo fare la wireless Wireless Echit 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 Dobbiamo fare due di questi Due receiver E due transmitter I receiver si fanno in questo modo Per cui ci servono Allora Andiamo qui Ci servono Un due Tre Quattro E Un due Tre Quattro Di questi Giusto Boh Vabbè Facciamo così E Così Perfetto Poi ci serve Ci serve Ci serve Abbiamo detto Queste bacchette si fanno Con l'ossidiana Per cui ci servirà Dell'ossidiana Sperando di averla Sperando di averla Sì Facciamo delle bacchette E voilà Poi 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 Allora togliamo questi qua Che adesso non servono Le bacchette le abbiamo Poi ci servirà Questi cosi qui Che si fanno Questi qua Con la stone Mentre questo qua Si fa Un casino Enderpearl Glowstone E Redstone Eh ragazzi è un casino Però Allora Enderpearl Anzi farei una bella cosa Addirittura Che ne dicete Wey Anzi Poi lo farò Non posso farlo adesso Perché Mi servono alcuni Attrezzici Allora Facciamo Così E sono pochi E te pareva Prendiamo un po' di glowstone Un po' di glowstone Un po' di glowstone Na 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 Un po' di glowstone Un po' di glowstone Ok Poi facciamo 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 La redstone Abbiamo detto Tanchete E le enderpearl Che andiamo subito a prendere Se ne abbiamo Logicamente Ne abbiamo solo una Ma non c'è problema Andiamo a prendere Un po' di energia E MSU Dobbiamo potenziare Anche tutto qua Mi accendo Una caramella Ok Ne vengono 13 più o meno Allora No qua Enderpearl Tankete Infatti 13 Le mettiamo qua E voilà 1,2,3,4 Per il momento Ne bastano 4 Boh Vediamo Ok Poi ci serve Della stone Basta fare così E prendiamo Della stone Facciamo 4 di questi qua Ok No Come cavolo Erano Dai Come erano Stone 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 Perché non vengono No ragazzi No ragazzi No ragazzi No ragazzi No ragazzi Non vengono Perché va in conflitto L'ID Va in conflitto L'ID Va in conflitto L'ID Porca di quella trota Ragazzi Va in conflitto L'ID Eh ragazzi Mi dispiace Devorò sistemare Anche questi D Anzi Non male che me ne sono accorto Mi tocca fare una cosa Che non ho ancora fatto In questa serie Mi dispiace Ma mi tocca farlo così Wireless Wireless Allora 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 Facciamo Due di questi E due di questi Ragazzi Perché c'è l'ID In conflitto Non posso farci nulla E Tanto il materiale Avete visto che lo avevo Butterò tutto Perfetto Porca trota Però no Mi viene nervoso Guarda ragazzi Vabbè Vabbè Allora Buttiamo questi E buttiamo Questo Questo E questo Li buttiamo via Dove li butto Non lo so Li butterò qua Perché sono corretto E li butto Allora Perché tanto si perdono Contro il cactus Via 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 E via Si sono persi Si Perfetto Cercherò di risolvere L'ID Ragazzi Allora Allora Abbiamo detto Abbiamo preso Due di questi E due di questi Ora ci servirà Della redstone Rossa Speriamo di averla Speriamo di averla Infatti Non ne abbiamo Si che ne abbiamo Et voilà E facciamo una bella cosa Ah no Ci manca un'altra cosa Andiamo in portal gun Ci servono questi qua Due Per cui due diamanti Due ender pearl E quattro ferri Due diamanti Due ender pearl E quattro ferri Perfettico Dove è? Ah due ender pearl Quattro diamanti Erano Porca trota Erano quattro diamanti E quattro ferri E quattro ferri Allora Altri due diamanti Altri due ferri Quattro ferri E voilà No Questi qui E due diamanti Ok Abbiamo anche due di questi Perfetto Li possiamo mettere Li possiamo mettere Li possiamo mettere Magari qua va bene No Li non va bene Lo possiamo piazzicare Dove cavolo Lo piazzico Lo piazzico qua dai Tanchete Ora li mettiamo I primi due Che sono i colori Della nostra portal gun Li mettiamo l'azzurro No Aspetta Ho sbagliato Scusate Scusate Ho sbagliato Ho sbagliato Li mettiamo Questo qua di fianco Quello non uguale Alla nostra portal gun Tanchete Poi spacchiamo Sotto Tanti di voi Mi hanno chiesto Come si fa Questo impianto Ve lo faccio vedere Allora 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 Li piazzichiamo Il receiver Il receiver Allora Receiver Giusto Lo piazzichiamo Qui Tanchete E lo giriamo Lo giriamo Mi serve il cacciavite Mi serve il cacciavite Per girare Ok lo giriamo così E li mettiamo Frequenza 0 Mettiamo avanzato Mettiamo 0 E facciamo Portal Facciamo Api Api Ah si Api 1 Perché sono poi Allora Set name Ah no Mettiamo l'1 Facciamo Api 1 Set Perfetto Poi 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 Andiamo qua Facciamo una Persuplay Con la stone Ne facciamo Due Due E facciamo E facciamo E facciamo Facciamo Che la mettiamo Qua Dove la posso Mettere Qua 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 Per cui Facciamo Così Via Questo Mettiamo Questo qua Il Non il receiver Ma l'altro Il transmitter E facciamo Sempre Il 2 Api 2 Set name Perfetto Ora saliamo Giù Saliamo Giù Qua ci mettiamo La persu No aspetta Che pirla Li mettiamo Li mettiamo Questi qua Vediamo se funziona Adesso Li mettiamo La persuplay E Perfetto Ora andiamo Di là Perfetto Andiamo magari Qui Li mettiamo Qui Li mettiamo Il colore Sotto E facciamo La stessa cosa Però Al contrario Come Così Allora Li mettiamo Il receiver Qua Giriamo Giriamo E mettiamo Il 2 Poi Facciamo Così No Qua Scusate Così O qua È uguale Lo mettiamo Qua Dove cavo Lo metto Lo mettiamo Qua Lo giriamo All'insù E li mettiamo L'uno Oh Che spavento Vaffanculo Allora Ho sbagliato Pirletta Ho sbagliato No è giusto È giusto Però Dovevo andare Più qua Pirla Dovevo andare Qua Lo giriamo E li mettiamo L'uno Perfetto Li mettiamo La persuplay E dovrebbe Funzionare Ok Guardate Abbiamo due portali Per cui uno Si può già chiudere Questo qua Si può chiudere Et voilà E abbiamo Il nostro portale Così Però ragazzi Ora Se io esco da Minecraft E rientro Il portale Non si apre Perché ci serve Un teleport Deader Lì Come cavolo Si chiama Vi faccio vedere Il Deader No Come si scrive Come si scrive È quello lì Per salvare i chanchi Salva i chanchi Eccitelo chi Il teleport Deader Giusto Allora Tutti i pezzi 8 pezzi di ferro E un pezzo E un pezzo di Lapiscazzolo Allora Un lapiscazzolo E 8 pezzi di ferro Perfettico Andiamo chi E Et voilà Ok Andiamo lì Ne mettiamo Uno proprio qua sotto Voilà Con F9 F9 Ok Si apre Si apre questa cosa qui Che è il Salva chunk Vedete queste linee Sono tutti i chanchi Che li prende Che li salva In modo che anche se noi siamo lontani Questo chunk è sempre salvato È come se noi fossimo qua In questo momento Però non so se funziona così O se funziona solamente con Un teleport pipe attivo Vedremo Vedremo quando Rientrerò nel server Perfetto Anche questo è fatto Abbiamo fatto il coso delle api Facetemi sapere ragazzi Come funziona questa ape Poi andrò a leggere io Tranquillamente Adesso dice che Vabbè di notte non vanno Va bene E fin qua ci siamo Qui invece Addirittura manca l'ape Perché ha già finito Gliela rimettiamo Vediamo se funziona anche di notte Funziona anche di notte Bene E tante api ragazzi Invece sono velenose Per cui bisognerà stare attenti Anche per questo episodio è tutto Abbiamo fatto già qualcosa di più Vi ho fatto vedere anche l'impianto Delle teleport pipe Anzi Già che sono qua Facciamo così Facciamo così Ok E vi dico Che da Luke No Andiamo a vedere le pergamenole Intanto dovrò farle tutte queste Olè Una pergamena uscita Facciamo un'altra Vediamo un po' E voilà Lascia 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 Da Luke è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.